Un saluto dal Tg della Mobilità, lavoro in via Volturno, le linee 16, 38, 66, 92, 223, 360, 492, N66 ed N92 sono deviate. La 16 in direzione di via 20 Settembre da via De Nicola prosegue per via Solferino, piazza Indipendenza, via Goito, via Cernaia e poi normale percorso di linea. I collegamenti 38, 66, 92, 223, 360, N66 e N92 in arrivo dal centro da via De Nicola proseguono per via Solferino, piazza Indipendenza, via Goito, via Cernaia e poi normale itinerario di linea. La 492 in direzione stazione metro Cipro da via Solferino continua sul viale De Nicola, via Naudi, piazza della Repubblica, via Barbieri, via Cernaia e da qui riprende il percorso abituale. E tutto appuntamento alla prossima edizione.